Un cordiale saluto ai clienti di Escamoshop, in questo video vi presento una cassa Philips, originaria della Philips, per tutti i dispositivi che abbiano un ingresso 3.5. Ecco qui lo vedete l'ingresso 3.5, vediamo un po' la cassa come si presenta, apriamo subito il blister per dare l'opportunità a tutti i clienti di andare a vedere come si presenta questa cassa. All'interno esce uno fuscoletto per quanto riguarda le istruzioni, il corretto funzionamento del dispositivo e un piccolo fuscoletto per quanto riguarda la garanzia. Eccolo qui. Allora, vediamo qui, ecco qui, questa qui è la cassa. La cassa è di colore nero, originale della Philips, eccola qui, la potete guardare, e viene accesa e spenta in un modo autonomo, cioè praticamente basta pigiare il tasto su off e in pratica la cassa va a spegnersi. Non viene, attenzione, alimentata dal tacco 3.5 che avete qui, ma viene alimentata da tre batterie di tipo mini stilo, cioè praticamente quelle lì, le piccoline. Ecco qui, vi faccio subito vedere che in pratica staccando il coperchio posteriore, in pratica abbiamo i tre bani dove vanno le tre batterie. Una volta che avete inserito le batterie, sulla parte posteriore della cassa va ad accendersi un piccolo led. Una volta che si è acceso questo led, vi basta collegare l'attacco 3.5 ad un computer, oppure ad un iPod, oppure magari ad un cellulare, a qualsiasi altro dispositivo dove voi avete della musica da poter ascoltare e in pratica ascolterete la musica molto ma molto più forte rispetto a quello che di solito riuscite ad ascoltarlo anche con il portatile, perché la cassa effettivamente è molto ma molto forte. Bene, io con questo ho concluso il video, ringrazio tutti per avermi prestato ascolto e vi do appuntamento alla prossima.